Cannone antiaereo localizzato! ...attato visivo con un soldato nemico! ...soldati! Ho individuato un soldato nemico! ...soldato nemico! ...attato! ...attato! Ho visto un soldato! ...attato! 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 Visto uno dei loro soldati! ...presto lo conquisteremo! ho individuato un soldato nemico là c'è un soldato è un aereo nemico contatto visivo con un soldato nemico attenzione in cielo aereo quello è un carro un soldato nemico attenzione in cielo aereo attenzione in cielo aereo attenzione in cielo aereo attenzione in cielo aereo difendiamo questo obiettivo è nostro Quello è un soldato nemico! Attenzione, attenzione soldato nemico! Laggiù, quello è un crucco! Ho individuato un bombardiero nemico! Stiamo attenti, c'è un soldato! Vedete? Quell'obiettivo! Ehi, lascia il soldato! Visto? Uno dei loro soldati! Laggiù, quello è un crucco! Un soldato nemico! 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 Grazie a tutti 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 Vedo uno dei loro soldati Grazie a tutti Grazie a tutti C'è un soldato Grazie a tutti Grazie a tutti Bombardiere nemico Un soldato nemico Un soldato nemico Un soldato nemico Ho visto un soldato nemico Ho visto un soldato Un soldato nemico 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 Attenzione 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 Quello è un soldato nemico Attenzione soldato nemico individuato attenzione attenzione soldato nemico contatto visivo con un soldato nemico attenzione soldato nemico Siamo attenti, c'è un soldato! Lì c'è un carro nemico! Ehi! Lì c'è un soldato! Loro soldati! Ho visto un soldato! Un soldato nemico! Ho visto un soldato! I nemici! Attenzione! Attenzione! Soldato nemico! Uomini, difendiamoci con tutte le nostre colpe. Ehi, là c'è un soldato! Ehi, là c'è un soldato! Ehi, là c'è un soldato! Attenzione! Quello è un soldato nemico! Attenzione, attenzione! Soldato nemico! Alla c'è un soldato! Quello è un croco! Alla c'è un soldato nemico! Attenzione, attenzione! Soldato nemico! Ho visto un soldato! L'amico! 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 Ok, ok, ok. Grazie a tutti. 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 Quello è un soldato nemico. Grazie a tutti. Ho individuato un soldato nemico. Ho individuato un soldato nemico. Ho visto uno dei loro soldati. Contatto visivo con un soldato nemico. Ho visto un soldato nemico. Ho visto un soldato. Ho visto un soldato. Stiamo attenti. C'è un soldato nemico. C'è un soldato nemico. Quello è un soldato nemico. Attenzione. 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 Soldato nemico. Attenzione. Attenzione. Contatto visivo. Contatto visivo con un soldato nemico. Attenzione. 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 Allora. Attenzione. Tivo! 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 Sontate akkor nih! ominominci! ho individuato un soldato nemico un aereo rischiamo di perdere l'obiettivo difendiamolo soldato nemico individuato stiamo attenti, c'è un soldato attenzione, quello è un soldato nemico visto? uno dei loro soldati ho visto un soldato contatto visivo con un soldato nemico laggiù, quello è un crocco conquistiamo quell'obiettivo là, è un aereo nemico ho individuato un soldato nemico ho individuato un soldato nemico ho visto un soldato attenzione, attenzione attenzione, attenzione, soldato nemico attenzione, quello è un soldato nemico soldato nemico individuato conquistiamo quell'obiettivo vedo uno dei loro soldati c'è un soldato vedo una aerea nemica soldato nemico soldato nemico attenzione, attenzione, quello è un soldato nemico ho individuato un soldato nemico ho individuato un soldato nemico che un soldato nemico che un soldato nemico che Sì Sì! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti